Silvio Berlusconi, a proposito di Quirinale. Allora, il centrodestra anche oggi ha ripetuto che loro sono compatti per la candidatura di Berlusconi al Quirinale. Oggi Berlusconi in un'intervista ha detto che lui però non farà il candidato di bandiera, eccetera, eccetera. Lei conosce anche Berlusconi da tantissimi anni e l'ha conosciuto in tante versioni. Secondo lei ci crede davvero? Non lo so. Lui è un fantasista come sono fantasisti quelli che pensano che una persona condannata in via definitiva per evasione fiscale, espulso dal Senato, che ha fatto votare i suoi deputati perché testimoniassero che Rubi era la nipote di Mubarak, che va dal Quirinale, mi sembra una cosa di fantasia. Io in ogni caso le anticipo una cosa. Nel caso in cui l'Assemblea dei grandi elettori impazzisse e lo mandasse al Quirinale, io rendo il mio passaporto al Ministro degli Interni. Assolutamente. Cioè sarebbe una vergogna per l'Italia. Beh, è una cosa indegna. Assolutamente.